Tu che vini bevi, da quale prezzo parto? Sei partito di mattina col vino? E che prima c'è? Faccio colazione col vino? Io mi alzo, perché io mi alzo quando lei torna a casa da lavoro, capisce? Quindi ho sette e mi faccio me la presta. Non prenda la macchina dopo che ha bevuto. Io sui social lo dico sempre, lo sa anche il suo Cruciani, dico sempre a tutti i giovani, ragazzi, quando siete bevuti, obbriachi non dovete assolutamente guidare. Ho a posto, ho fatto un esempio, ho lasciato la macchina ferma e sono trovato a casa a piedi. Poi per carità, a momenti rischio che mi stirano i camion, perché se c'è la tangenziale, però sono tornato a casa a piedi. Ma che lavoro fa lei, signor Ciampagno? Io non ho mai lavorato in vita mia. Ma a me non me ne frega niente, per me se lei paga le tasse, lei per me può sballarsi tutto il giorno. Non mi frega nulla. Io mi sballo solo col bere, io non avrei mai invitato uno che si chiama Filippo Ciampagno, tutto quello, è legittimo. Santoro, lo sai che è.